All'inizio si pensava che un cambiamento piccolo come un indirizzo di posta elettronica, una comunicazione veloce permessa dalla rete, non avrebbe poi prodotto molti cambiamenti nelle organizzazioni lavorative, ma è proprio il ritmo che cambia, la velocità con cui la comunicazione circola oggi velocemente sulla rete, tra le persone, dentro le imprese, gli attori sociali, le pubbliche amministrazioni. In particolare la pubblica amministrazione deve per legge adeguare se stessa ai nuovi strumenti comunicativi, a nuovo modo di relazionarsi con i cittadini e di mostrare se stessa e le pratiche interne. La comunicazione pubblica prevede alcuni riferimenti di legge precisi, c'è una legge 150 del 2000 e sono già molti anni fa, qualcosa anche negli anni 90 è stato fatto dal punto di vista della trasparenza degli atti amministrativi. Nel 2005 c'è stato un codice dell'amministrazione digitale, molto importante, venivano organizzate per la prima volta la figura del comunicatore pubblico, l'ufficio relazioni con il pubblico già da qualche anno esisteva, ma bisognava dargli delle funzionalità ben precise. Siamo arrivati oggi, 2012, con un'agenda digitale, un'agenda per l'Italia digitale come preciso piano di azione del governo, vista l'impossibilità, la necessità di dover fare i conti con la rivoluzione epocale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per i cambiamenti nella comunicazione che questo provoca rispetto alla pubblica amministrazione. Quindi ho a che fare con un ammodernamento della pubblica amministrazione, si tratta di trattare documenti, si tratta di informazioni, la pubblica amministrazione è una grossa macchina per gestire le informazioni e i documenti con anche un valore di ufficialità di questi ultimi, va salvaguardata la loro conservazione nel tempo in quanto atti ufficiali, tutto quanto quello che riguarda le gare, la partecipazione, gli appalti, la partecipazione di imprese e cittadini a quanto la pubblica amministrazione pubblica su un proprio sito web. Sito web che peraltro, per le stesse specifiche indicazioni delle leggi, delle linee guida prima citate, deve essere costruito in un certo modo, deve avere delle qualità di comunicazione, deve essere graficamente impostato in un certo modo, la grandezza del carattere, la presenza di luoghi di interazione all'interno del sito, mostrare certi argomenti, certe pagine per motivi di legge, come ad esempio quello che riguarda la valutazione, la trasparenza e il merito dei pubblici dipendenti. Tutto questo rientra all'interno di quel lato della cittadinanza digitale che spesso chiamiamo i government, cioè il lato dal punto di vista della pubblica amministrazione, il suo essere trasparente e il suo dover mostrare procedimenti e documenti interni rispetto al proprio stesso agire, al proprio fare. Tutto quanto quello che passa per la pubblica amministrazione ha punto carattere di ufficialità, ma il cittadino ha il diritto per legge di comunicare in formato elettronico con la pubblica amministrazione e anche di ricevere risposta nello stesso formato, in particolare se la comunicazione riguarda la partecipazione a documenti ufficiali, atti ufficiali, a bandi delle gare di appalto, il cittadino dovrà munirsi di una posta elettronica certificata, detta PEC, per dare la garanzia sulla propria autenticità, della propria identità nel momento in cui comunica con la pubblica amministrazione e sono delle caselle di posta normalmente utilizzabili online che ognuno di noi può liberamente aprire presso un qualunque provider di servizi internet. Pubblica amministrazione ha dei doveri, dicevamo, riguardo ad esempio garantire l'accesso telematico al cittadino nella trasparenza dei propri atti amministrativi, deve poter pubblicare e deve farli in maniera molto semplice e immediata, formulari dei bandi concorsi per trasparenza. Il cittadino ha dei diritti rispetto alla pubblica amministrazione, ha dei diritti riguardo alla qualità del servizio, riguardo all'alfabetizzazione informatica sul territorio con opportuni corsi, ha il diritto di partecipare a conversazioni di tipo civico che sono liberamente disponibili online, spesso promosse dalle stesse pubbliche amministrazioni. Infatti, quello che in un ambiente social come il web che stiamo vivendo, in cui viviamo noi oggi, la stessa pubblica amministrazione può inventarsi e creare dei piccoli luoghi di socialità, dei contenitori di socialità, pensiamo a un sondaggio, un questionario delle mappe geografiche, satellitari su cui è possibile scrivere. Il comune di Udine in particolare utilizza proficuamente un servizio che si chiama Ipart, su cui i cittadini possono liberamente fare le proprie segnalazioni su tematiche riguardanti il decoro urbano, l'arredo, la viabilità, la mobilità, la sostenibilità. Ed è un buon successo online ed sono i primi passi di una comunicazione finalmente bidirezionale tra la pubblica amministrazione e il cittadino. Se ci pensiamo, fino a 15 anni fa c'era l'albo pretorio, certo da 2000 anni che c'è, ma bisognava recarsi fino in comune, guardare una bacheca. Tutto questo oggi per legge è disponibile online, liberamente fruibile dal cittadino. Aver cura forse è la parola chiave che continuiamo a utilizzare, perché aver cura dal punto di vista della pubblica amministrazione di quanto lei pubblica, aver cura noi come cittadini di costruire la qualità degli ambienti digitali in cui viviamo, in cui abitiamo, significa avere recepito una consapevolezza riguardo il web come bene comune. Noi tutti contribuiamo alla sua qualità e alla pubblicazione di contenuti e di documenti in prima persona. Noi tutti controlliamo, vediamo, assaggiamo, commentiamo, diffondiamo quanto gli altri scrivano, che si riguardi pubbliche amministrazioni, oppure semplici cittadini, oppure imprese. Tutto questo nel grande calderone che è internet auspicabilmente contribuirà a creare un ambiente di vita migliore, un luogo migliore dove abitare con la partecipazione e la collaborazione tra tutti i cittadini.